Perché, amici, questo segreto ha messo d'accordo tutti i potenti del mondo? Perché la scoperta della verità, della presenza nel nostro mondo di civiltà molto più evolute fadebbe cadere il sistema. Ce l'ha detto sulla faccia un agente, un giovane tenente colonnello del KGB. Chi ha mai sentito parlare del KGB? Lo conoscete, il servizio di intelligence russi, oggi si chiamano SFB da quando è caduta l'Unione Sovietica, ma sempre quello è. Noi non diciamo la verità sulla visita extraterrestre perché cambierebbe, parole testuali, il modo di vita di tutti i paesi del mondo. Cioè cadrebbe il sistema, cadrebbero le banche, cadrebbe il mondo dell'impero del petrolio, cadrebbe il mondo dell'impero farmaceutico. Perché, amici, viaggiare nel cosmo, la scienza più importante non è quella dell'astronave, del combustibile. La scienza più importante del viaggio spaziale è la medicina, è la psicologia, perché se stai male a un miliardo di anni luce dalla Terra non ci vai alla croce verde. Devi avere una scienza in grado di garantire la salute degli astronauti, ergo gli immensi investimenti economici necessari per i viaggi spaziali. Devi garantire l'arrivo e il rientro degli astronauti in salute. E' uscita una notizia che mi ha girato un amico, adesso, per stare entro parametri, in un range molto stretto di valori. Lo spazio è tutto un altro mondo, ci vuole una scienza molto avanzata per permettere la sopra di bretti, perché noi abbiamo un credo l'invisibile. Non è vista nessuno, non si vede, ma oggi abbiamo strumenti, niente, zero. L'eserio umano, soprattutto, è quella eterna, molto oggi. Che ti ammazza fare? Tanto ti ritrovo davanti. Se io sono eterno, cosa ho da conquistare? Nell'eternità è tutto a disposizione. Quindi l'ignoranza di questi concetti scientifici importantissimi ci impedirebbe, ad esempio, di metterci bottulino o silicone. Perché se io sono eterno, man mano che invecco vado verso la gioventù. Ma mi porto via il bene prezioso dell'esperienza fatta in vita. Ma se sono un deficiente, sempre occupato a pensare di voler rimanere giovane, non mi porto via nulla. A parte che non ci riuscirò mai, perché il tempo ha le sue leggi. Quindi c'è una strategia di informazione, di manipolazione, per fare di noi quello che siamo, una società di incapaci, in grado di gestire persino il proprio debito pubblico. Eppure siamo il popolo sovrano del debito e basta. Tutto il resto ce l'hanno rubato. Meglio, ce lo siamo lasciati rubare, perché noi siamo conniventi col sistema che ci schiavizza. Guardate il funzionamento del nostro sistema bancario e monetario, perché se accadesse, credo che scoppierebbe una rivoluzione prima di domani mattina. Ora è anche strano che nel 1938 Henry Ford prende da Hitler la più alta onoreficenza che poteva essere conferita a una persona di origine non tedesca. In che senso? Ma che storia ci hanno raccontato? Le fabbriche della Ford in Germania, gli alleati, non le hanno mai bombardate, nonostante producessero anche per i tedeschi. Quindi la storia che ci viene detta a scuola cos'è? Bella domanda. Questo è l'andamento del debito pubblico. Vedete? Cresce sempre. Guardate un po'. Tra il 50 e il 63 il debito pubblico era il 30% del PIL, ci rimaneva in tasca il 70%. Oggi siamo al 133%, cioè il PIL viene mangiato dal debito e esforiamo del 33%. Ma scusa, Mario Monti non era stato lì messo con un golpe bianco da Napolitano per risolvere il problema del debito pubblico? Sapete cosa ha fatto il signor Mario Monti? Ha fatto una regalia di non so quanti miliardi a una banca estera, la Goldman Sachs. C'è stata data questa notizia nel talk show o nei pseudo telegiornali informativi? Non ce l'hanno data. E quelli erano soldi nostri, che Mario Monti ha potuto gestire grazie al fatto di essere stato fatto da Napolitano con atto illegittimo, perché il primo ministro può essere primo ministro solo perché il popolo lo ha eletto. Siamo una repubblica parlamentare. Eppure quattro legislature non abbiamo eletto nessuno. Mario Monti, Letta, Renzi e Gentiloni. Quattro presidenti del Consiglio non eletti dal popolo. Questa si chiama dittatura. Ma com'è che noi non lo percepiamo? Guardate la trasformazione della moneta. Queste sono le 500 lire col mercurio alato, Repubblica Italiana. Queste sono le 100.000 lire, Banca d'Italia. Questo è l'euro. E' sparito tutto. Non c'è più. Non c'è scritto, c'era scritto su questi soldi, c'era scritto pagabili a vista al portatore. Non c'è più. C'era scritto la legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi. Non c'è più. Poi c'erano delle cariche, delle firme. Già questa è una moneta privata. Questa era moneta che non generava debito pubblico, stampata dalla zecca dello Stato, la nostra zecca. Qui non ci sono più, da un lato e dall'altro, cariche. C'è solo un autografo. M Draghi. Inizialmente pensavo significasse M cacca di drago, poi invece di draghi. E che è successo? E' successo un fatto, amici, che è la causa del debito pubblico. Perché noi siamo indebitati con dei privati. Quelli che stampano i soldini. Ve lo siete mai chiesti che c'è qualcuno che piggia un pulsante e stampa i soldi? Li avete viste le lenzuole di euro sotto le rotative? Meglio ancora, oggi addirittura la maggior parte del denaro viene generata con un semplice battimento di tasti di un computer. Non c'è manco la stampa della carta. E sapete che questi soldi non hanno nessun tipo di garanzia. Non c'è un collaterale che ne garantisca il valore. Si chiama moneta fiat. E' solo un pezzo di carta, come un monopoli. Ha valore solo perché noi lo accettiamo. Basta. Non c'ha niente dietro. Non c'ha oro, non c'ha zucchero, non c'ha marmotte, niente. E ne stampano quanti ne vogliono. Fuori controllo, perché la BCE è una ditta privata. Che ci fa nella nostra banca europea l'Inghilterra che c'ha la sterlina? Non le sappiamo queste cose. Quindi la moneta è stata trasformata da istituto di diritto pubblico, perché noi siamo il popolo sovrano, è stata trasformata in una identità di diritto privato, sotto il nostro naso. Ma siccome noi siamo incompetenti, veniamo sottoposti ad amministrazione coatta da un branco di criminali che occupano abusivamente il Parlamento. Questa è la verità, amici. E ce la mettono sotto il naso. Guardate un po'. In questa stringa alfabetica c'è questo simbolino qui. Lo ingrandiamo, lo giriamo, il simbolo di copyright. Ecco perché c'è un autografo, è un'opera d'arte. È una moneta privata. Moneta privata. Ce l'hanno tolta. Ce l'hanno privata. Quindi noi siamo un popolo indebitato con un ente privato. Cioè tutti i soldi che circolano in Italia, li dobbiamo restituire. Ma come posso io chiudere un debito? Perché ogni moneta debito che mi danno è gravata di interesse. Quindi i soldi fisici per gli interessi non esisteranno mai. Quindi un popolo che è stato fregato con il debito a una società privata che ci presta i soldi, non ce li vende, ce li presta, quel popolo è fallito. Perché tecnicamente quel debito non si potrà mai estinguere. Semplicemente. Tecnicamente inestinguibile. Perché tutto il denaro che ti viene prestato lo devi restituire più gli interessi. Ma se io devo restituire tutti i soldi, gli interessi da dolipiglio, mi devo indebitare di nuovo. È un debito eterno. Ecco perché abbiamo già reso 3.000 miliardi e siamo a 2.400 miliardi di debito a fallimento assicurato. E cosa si sono inventati lo signore? La privatizzazione. Quindi il popolo sovrano viene privato attraverso una truffa dei beni reali. Perché questa è cartaccia. Ma con la cartaccia ci hanno tolto le ferrovie, ci hanno tolto le poste, ci hanno tolto liri, ci hanno tolto leni, ci stanno togliendo tutto con una truffa. C'è un piano internazionale ben congegnato che ha trovato l'appoggio della nostra classe politica corrotta fino alla radice più antica del proprio seme. Tutti quanti, Ciampi, Prodi, Andreatta, tutti uguali ci hanno venduto traditori della patria.